Me la sono andata a cercare e il titolo del quarto romanzo scritto a due mani dal barlettano Tommy di Bari è la storia di un viaggio che parte da Barletta, la città natale dell'autore uno spazio bellissimo e pettegolo al tempo stesso nel quale l'amore per la situra che di Bari definisce bonariamente come una malattia non passerà, anzi crescerà negli anni le incessanti ricerche di scuole che nella regione accogliessero il suo progetto all'alba del terzo millennio si alterna con il costante desiderio di spiazzare i suoi allievi costringendoli ad aprirsi in scuole sempre più simili a ospedali nei quali si respingono i malati e si curano i sani Me la sono andata a cercare e presentato al cinema opera di Barletta apre le porte verso mondi abitati da un'umanità fragile come il centro di salute mentale, il carcere e un ricovero per anziani dove Tommy frequenta la sua personale scuola di vita Alla fine gli adulti, i genitori in generale, in nome dell'amore spesso fanno anche i danni peggiori ma non lo fanno chiaramente con cattiveria, lo fanno per cercare di proteggerti ma se pensiamo al gabbiano, il gabbiano per poter battere bene le ali ha bisogno del vento contrario perciò è un bene che quegli ostacoli ci siano stati poi con mio padre la relazione è stata più tenera nel tempo quando abbiamo capito che forse i sogni contavano più della razionalità Ora il tour per le piazze italiane ha preso il via tra confronti, racconti e incroci che si è un'unità di 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 un'un